Questa mappa non la sopporto, ma proprio per un cazzo. Ottimo, lo giuro, l'ho anche preso. Qualcuno ha qualcos'altro da dire, di cazzo. Poverci, non c'è una cosa da dire. Gliacco. Grande. Stato di ghiacco. Ottimo. Gliacco. Beh. Uh. Un piccione è stato individuato. Dovevi vincitermi qua, non avevi lupo. Va. Un piccione è stato individuato. Ma comunque combatterò in prima linea! Orle. Che vi è senza nanno! Nanna! Dove è il piccione? Qua! Questo si è aperto con Naten! Si è aperto con Naten! Sì, è aperto con Naten! Naten! Ma a bordeca puttana Troppo lontano Troppo lontano Merdo, ce l'avevo udite? Granate! Granate? Oh, die Die Si Il piccione ha consegnato il nostro messaggio Grande squad Squadra bending guard Sì 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 Granate? Sì 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 Sì